grazie signor falcher di patricia polacco grazie signor falcher di patricia polacco a george falcher del vero signor falcher sarai per sempre il mio eroe il nonno teneva il barattolo di miele in modo che tutta la famiglia potesse vedere poi ci ha immerso un mestolo e ha spruzzato il miele sulla copertina di un piccolo libro la bambina aveva appena compiuto cinque anni alzati piccolo sgranzò l'ho fatto per tua madre i tuoi zii tuo fratello maggiore e ora tu poi le consegnò il libro assaggia ha immerso il dito nel miele e l'ha messo in bocca qual è quel gusto ha chiesto la nonna la bambina rispose dolce poi tutta la famiglia disse con una sola voce sì e così è la conoscenza ma la conoscenza è come l'ape che ha fatto quel dolce miele devi inseguirlo attraverso le pagine di un libro la bambina sapeva che la promessa di leggere era alla fine sua presto avrebbe imparato a leggere trisha la bambina più piccola della famiglia è cresciuta amando i libri la madre della sua insegnante le leggeva ogni sera suo fratello dai capelli rossi ha portato a casa i suoi libri da scuola e li ha condivisi e ogni volta che visitava la fattoria di famiglia suo nonno sua nonna le leggevano vicino al cammino di pietra quando ha compiuto 5 anni ed è andata all'asilo soprattutto sperava di leggere ogni giorno vedeva i bambini di prima elementare dall'altra parte della sala leggere e prima che l'anno fosse finito alcuni dei bambini della sua classe iniziarono a leggere non trisha tuttavia amava stare a scuola perché sapeva disegnare gli altri bambini si affollavano intorno a lei e la guardavano fare la sua magia con il pastelli in prima elementare imparerai a leggere ha detto suo fratello in prima elementare trisha si è seduta in cerchio con gli altri bambini erano tutti tenendo il nostro quartiere il loro primo lettore sondando lettere e parole hanno detto bebe o y ragazzo e lulu o k guarda l'insegnante ha sorriso loro quando hanno messo insieme tutti i suoni e hanno avuto una parola giusta ma quando trisha ha guardato una pagina tutto ciò che ha visto erano forme che si muovevano e quando ha cercato di suonare le parole gli altri bambini hanno riso di lei trisha cosa stai guardando in quel libro diranno sto leggendo lei rispondeva a loro ma il suo insegnante passerebbe alla persona successiva sempre quando era il suo turno di leggere la sua insegnante doveva aiutarla con ogni singola parola e mentre gli altri bambini sono passati al secondo lettore e al terzo lettore lei è rimasta sola nel nostro quartiere trisha ha iniziato a sentirsi diversa ha iniziato a sentirsi stupida più le parole diventavano difficili per la bambina più tempo passava a disegnare come amava disegnare o semplicemente seduta e sognando o quando poteva andare a fare una passeggiata con sua nonna un giorno d'estate lei e sua nonna stavano camminando insieme nei piccoli boschi dietro la loro fattoria era il crepuscolo l'aria era dolce e calda le lucciole stavano appena salendo dalle erbe mentre camminavano trisha disse gramma pensi che io sia diverso certo rispose sua nonna essere diversi è il miracolo della vita vedi tutte quelle piccole lucciole ognuno è diverso pensi che io sia intelligente trisha non si sentiva intelligente sua nonna l'abbracciata sei la piccola cosa più intelligente più veloce più cara di sempre proprio allora la bambina si sentiva al sicuro tra le braccia di sua nonna leggere non importava così tanto la nonna di trisha diceva che le stelle erano buche nel cielo erano la luce del cielo proveniente dall'altra parte e diceva che un giorno sarebbe stata dall'altra parte da dove viene la luce una sera si sono sdraiati sull'erba insieme hanno contato le luci dal cielo sai disse sua nonna ci andremo tutti un giorno aggrappati all'erba o ti sollevi subito da terra ci sarai ridevano ed entrambi si sono aggrappati all'erba ma non è passato molto tempo dopo quella notte che sua nonna deve aver lasciato andare l'erba perché è andata dove c'erano le luci dall'altra parte e non molto tempo dopo anche il nonno di trisha ha lasciato andare l'erba la scuola sembrava sempre più difficile ora leggere era solo una semplice tortura quando su ellin leggeva la sua pagina o tommy bob leggeva la sua pagina leggevano così facilmente che trisha guardava la parte superiore delle loro teste per vedere se stava succedendo qualcosa alle loro teste che non stava accadendo alla sua e i numeri erano la cosa più difficile di tutte da leggere non ha mai aggiunto nulla di giusto allinea i numeri prima di aggiungerli direbbe l'insegnante ma quando trisha ci ha provato i numeri sembravano una pila di blocchi traballanti e pronti a cadere sapeva solo di essere stupida poi un giorno sua madre annunciò di aver ottenuto un lavoro da insegnante in california a molto lontano dalla fattoria di famiglia nel michigan anche se sua nonna e suo nonno se ne erano andati la bambina non voleva muoversi forse però gli insegnanti e i bambini della sua nuova scuola non saprebbero quanto fosse stupida lei sua madre e suo fratello si sono trasferiti in tutto il paese in una plymouth bicolore del 1949 ci sono voluti cinque giorni ma la nuova scuola era lo stesso quando ha provato a leggere si è imbattuta nelle parole il caca gatto rrr rrr a corso leggeva come una bambina in terza elementare e quando il suo insegnante leggeva insieme a loro e chiamò triscia per una risposta dava la risposta sbagliata ogni volta e in sciocco un ragazzo la chiamata al parco giochi come mai sei così stupido altri bambini stavano vicino a lui e ridevano triscia poteva sentire le lacrime che le bruciavano negli occhi come desiderava tornare alla fattoria dei suoi nonni nel michigan ora triscia voleva andare a scuola se meno ho mal di gola diceva a sua madre oppure ho mal di stomaco sognava sempre di più e disegnava sempre di più e e odiava 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 la scuola poi quando triscia ha iniziato la quinta elementare la scuola era tutta in fermento c'era un nuovo insegnante era alto ed elegante tutti amavano il suo cappotto a righe e i suoi pantaloni grigi lisci indossava i vestiti più ordinati tutti i soliti animali domestici dell'insegnante si sono riuniti intorno a lui stivi gio e alice marie devi e mai collì ma fin dall'inizio non sembrava importare al signor falcher quali bambini fossero i più carini o il più intelligente o il migliore in qualsiasi cosa il signor falcher stava dietro triscia ogni volta che disegnava e sussurrava questo è brillante assolutamente brillante sai quanto sei talentuoso quando ha detto questo anche i bambini che l'hanno presa in giro si giravano nei loro posti e guardavano i suoi disegni ma ridevano ancora ogni volta che lei dava una risposta sbagliata poi un giorno ho dovuto alzarsi e leggere cosa che odiava stava inciampando in una pagina nel web di charlotte e la pagina stava diventando tutta sfocata quando i bambini hanno iniziato a ridere ad alta voce il signor falcher con la sua giacca a quadri e la sua cravatta farfalla ha detto smettila siete tutti così perfetti da poter guardare un'altra persona e trovare difetti con lei quello è stato l'ultimo giorno in cui qualcuno ha riso ad alta voce o la presa in giro tutti tranne eric si era seduto dietro triscia per due anni interi ma sembrava quasi odiarla triscia non sapeva perché l'ha aspettata alla porta dell'aula e le ha tirato i capelli la aspettò nel parco giochi si appoggiò in faccia e la chiamò rospo triscia aveva paura di girare qualsiasi angolo per paura che eric sarebbe stato lì si sentiva completamente sola l'unica volta che era davvero felice stato quando era con il signor falcher le ha lasciato cancellare le lavagne solo i migliori studenti hanno avuto modo di farlo le dava una pacca sulla schiena ogni volta che faceva qualcosa di giusto e guardava duro e cattivo contro qualsiasi bambino che la prese in giro ma più il signor falcher era gentile con triscia peggio eric la trattata ha fatto aspettare tutti gli altri bambini al parco giochi o nella caffetteria o anche in bagno e a saltare fuori chiamarla stupida o brutto e triscia cominciò a crederci ha scoperto che se avesse chiesto di andare in bagno poco prima della ricreazione avrebbe potuto nascondersi sotto la tromba delle scale interna durante il tempo libero e non dover uscire affatto in quel posto buio si sentiva completamente al sicuro ma un giorno alla ricreazione eric la seguita nel suo nascondiglio segreto sei diventato una tal pariso e lui la tirò fuori nel corridoio e ballò intorno a lei manubri manubri vecchio manubrio triscia seppellì la testa tra le braccia e si rannicchiava in una palla improvvisamente sentì dei passi era il signor falcher ha portato eric verso l'ufficio quando è tornato ha trovato triscia non credo che dovrei preoccuparti di nuovo di quel ragazzo disse dolcemente cosa ti stava prendendo in giro piccola non lo so triscia ha scrollato le spalle triscia era sicura che il signor falcher credeva di poter leggere aveva imparato a memorizzare ciò che il bambino accanto a lei stava leggendo oppure avrebbe aspettato che il signor falcher la aiutasse con una frase poi avrebbe detto la stessa cosa che ha fatto lui bene diceva poi un giorno il signor falcher le chiese di rimanere dopo la scuola e di aiutare a lavare le lavagne ha messo la musica e ha tirato fuori piccoli panini mentre lavoravano e parlavano tutto in una volta ha detto giochiamo griderò lettere li scrivi sulla lavagna con la spugna bagnata il più velocemente possibile a gridò asciugato una accusa 8 gridò ha fatto un accuso 8 14 3 d mq gridò gridò molte molte lettere e numeri poi si avvicinò dietro di lei e insieme guardarono il tabellone era un pasticcio accuso triscia sapeva che nessuna delle lettere o dei numeri sembrava come avrebbero dovuto ha gettato giù la spugna e ha cercato di correre ma il signor falcher le prese il braccio e sprofondò in ginocchio davanti a lei povero bambino disse pensi di essere stupido vero che terribile per te essere così solo e spaventato lei sinzò ma piccola non capisci non vedi lettere o numeri come fanno le altre persone e hai superato la scuola per tutto questo tempo e hai ingannato molti molti buoni insegnanti le sorrise ci è voluta astuzia e intelligenza e così via tale coraggio poi si alzò e finì di lavare la tavola cambieremo tutto questo ragazza stai per leggere te lo prometto ora quasi ogni giorno dopo la scuola ha incontrato il signor falchere la signorina plessi un insegnante di lettura hanno fatto un sacco di cose che non capiva nemmeno all'inizio ha fatto cerchi di sabbia e poi grandi cerchi di spugna sulla lavagna ando da sinistra a destra da sinistra a destra un altro giorno hanno sfogliato le lettere su uno schermo e triscia le ha gridate ad alta voce ancora altri giorni lavorava con blocchi di legno e costruiva parole lettere 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 parole 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 sempre a sondarli e questo è stato bello ma anche se aveva letto parole non aveva letto un'intera frase e in fondo si sentiva ancora stupida e poi un giorno di primavera erano passati tre mesi o quattro mesi da quando avevano iniziato mister falchere ha messo un libro davanti a lei non l'aver mai visto prima ha scelto un paragrafo al centro di una pagina e l'ha indicato quasi come se fosse magia o come se la luce si riversasse nel suo cervello le parole e le frasi hanno iniziato a prendere forma sulla pagina come non avevano mai fatto prima lei ha marciato loro via lentamente ha letto una frase poi un altro un altro e alla fine aveva letto un paragrafo e ha capito tutto non si è accorto che il signor falchere la signorina plessi avevano le lacrime agli occhi quella notte triscia corse a casa senza fermarsi a riprendere fiato ha delimitato i gradini anteriori ha aperto la porta d'ingresso e ha attraversato la sala da pranzo fino alla cucina si arrampicò sull'armadio e afferrò un barattolo di miele poi è entrata in salotto e ha trovato il libro su uno scaffale proprio il libro che suo nonno le aveva mostrato tanti anni fa ha messo il miele sulla copertina e ha assaggiato la dolcezza e ha detto a se stessa il miele è dolce così come la conoscenza ma la conoscenza è come l'ape che ha fatto il miele deve essere inseguita attraverso le pagine di un libro poi ha tenuto il libro tesoro e tutto vicino al petto poteva sentire le lacrime rotolare lungo le guance ma non erano lacrime di tristezza era felice e quindi molto felice il resto dell'anno è diventato un'odissea di scoperta e avventura per la bambina ha imparato ad amare la scuola lo so perché quella bambina ero io patricia polacco ho visto di nuovo il signor falcher circa 30 anni dopo a un matrimonio mi sono avvicinato a lui e mi sono presentato all'inizio ho avuto difficoltà a posizionarmi poi ho detto chi ero e come aveva cambiato la mia vita tanti anni fa mi ha abbracciato e mi ha chiesto cosa facevo per vivere perché signor falcher ha risposto faco libri per bambini grazie signor falcher grazie